Giovedì 25 ottobre, buonasera e ben trovati con InfoStudio. Ieri sera aprivamo il telegiornale, l'edizione serale di ieri, cioè con la notizia dei due fermi, poi abbiamo corretto durante la stessa edizione che il fermo effettivamente era soltanto uno in relazione all'omicidio di Massimo Ripepi che è stato ucciso domenica pomeriggio nella frazione Piscopio di Vibo Valencia. Effettivamente adesso i fermi da questa mattina, per essere più precisi, sono effettivamente diventati due, perché dopo Giuseppe Carnovale, il cognato di 48 anni che sembra aver confessato il delitto, è stato fermato anche il figlio maggiore di Massimo Ripepi che ha 18 anni. Il figlio maggiore perché anche l'altro figlio era rimasto coinvolto in un episodio violento che lo aveva visto protagonista. Comunque, secondo quanto hanno detto gli inquirenti quest'oggi in una conferenza stampa, il procuratore ha parlato di un gesto premeditato. Il 18enne avrebbe fornito ausilio allo zio nelle fasi della fuga dal luogo del delitto. Vi ricordo che era entrato l'assassino in una sala giochi dove Ripepi si trovava e aveva fatto fuoco ferendo l'uomo che ha cercato scampo ai proiettili alla morte correndo all'esterno. È stato raggiunto, però è finito con un colpo di pistola in testa. Ad incastrare l'ex cognato ed il figlio maggiore della vittima, oltre ad alcune dichiarazioni rese da testimoni, anche le immagini, soprattutto anzi forse le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona che carabinieri e polizia visionavano da domenica sera. Il movente del delitto è da ricondurre ai ripetuti maltrattamenti che la vittima aveva rivolto ai danni dei due figli e della moglie. Vi ricordo che nel giugno scorso l'altro figlio di Ripepi, il minore di 16 anni, aveva sparato contro il padre e poi se ne era autoaccusato e aveva detto di non volerlo uccidere ma di averlo fatto per dargli un avvertimento. E poi, altra causa, d'altra parte le due cose sono strettamente legate tra loro, i continui contrasti causati dalla ludopatia dalla quale Ripepi era afflitto. Tant'è vero, poi che per il luogo dell'agguato l'assassino non ha avuto difficoltà nel riuscire a rintracciarlo, ha colpito proprio mentre si trovava nella sala giochi. L'indagine è stata coordinata dalla procura di Vibo Valencia e condotta dalla squadra mobile di Vibo e dai carabinieri. Queste sono le immagini di domenica pomeriggio, il cadavere di Ripepi è a terra all'esterno della sala giochi coperto da un lenzuolo. Anche la pista del fatto di sangue avvenuto a giugno, quando il figlio minore gli aveva sparato, ha instradato gli investigatori verso la convinzione, già maturata immediatamente dopo il delitto, che l'omicidio fosse maturato in un contesto familiare che non si trattasse di un fatto di criminalità organizzata, ma da inquadrare in un contesto familiare. Non è inquadrabile in alcun contesto invece l'episodio del quale vi diamo conto che arriva da Reggio Calabria. È stato arrestato dalla squadra mobile un uomo di 75 anni ed è stato posto ai domiciliari con l'accusa di violenza sessuale ai danni di una bambina di 8 anni. Dalle indagini che sono partite da poco più di un mese, l'episodio risalirebbe infatti ai primi giorni di settembre, la bambina sarebbe stata costretta a subire le attenzioni dell'uomo, a subire atti sessuali all'interno della sua abitazione. Il 75enne avrebbe agito approfittando della distrazione, così si sono espressi gli investigatori senza meglio specificare di che tipo di distrazione si sia trattata, approfittando della distrazione dei genitori. Sono stati il procuratore aggiunto Gerardo Dominiani e il sostituto procuratore Nicola Decaria a coordinare le indagini iniziate subito dopo la denuncia dei familiari della piccola, dopo che la bambina aveva raccontato al padre e dalla madre le confidenze, cioè aveva raccontato quello che era accaduto e poi queste confidenze hanno state trasmesse dai genitori alla polizia. L'abuso è stato confermato nei giorni successivi in modo attendibile, sostengono gli investigatori, durante un'audizione protetta a cui la bimba è stata sottoposta. Oggi è stato presentato il dossier Immigrazione 2018, ieri a livello nazionale era stato presentato a Roma la Fondazione Immigrantes e il Centro Studi e Ricerche IDOS hanno presentato a Catanzaro, presso la cittadella regionale, il rapporto dal quale emerge che i cittadini stranieri presenti in Calabria al 31 dicembre scorso erano 108.494, pari al 5,5% della popolazione complessiva. Quindi nella nostra regione il numero degli stranieri è in forte crescita, sono 5.670 in più rispetto al 2016 e nell'ultimo quinquennio il loro numero è cresciuto di 22.000 unità, non costantemente, quindi 22.000 diviso 5 non dà 25.000 che sarebbe la proiezione se il dato dell'ultimo anno fosse stato fedele, ma comunque anche questo fa ritenere appunto il dato in continua crescita. a diminuire invece la popolazione calabrese, cioè i nativi, gli autotoni, che fanno registrare una riduzione di circa 45.900 persone rispetto al 2013. Un dato che viene imputato da una parte ai bassi livelli di fecondità delle nostre famiglie, dall'altra alla ripresa dei flussi migratori dei giovani calabresi verso il centro nord ed anche verso l'estero, come ci spiega tra poco Roberta Saladino del centro IDOS, la quale ha parlato da un lato del rinfrescamento della popolazione, arrivano molti stranieri giovani tra 20 e 40 anni, ma nel silenzio, dice la Saladino, abbiamo perso anche 5.000 giovani calabresi. Sentiamo. L'andamento demografico è confermato e molto molto crescente, in particolar modo la classe di età 20-39 anni, quindi abbiamo un grandissimo beneficio del ringiovanimento della popolazione in età attiva. Purtroppo questo è il quarto anno che la nostra regione fa registrare un saldo migratorio negativo, quindi silenziosamente sta riprendendo il flusso degli emigrati calabresi. Sì, soprattutto giovani, ad esempio nell'arco del 2017 abbiamo perso circa 5.000 giovani, soprattutto di genere maschile. Nel centro nord si concentrano, ma anche c'è una grande percentuale all'estero, come Francia, Svizzera, Germania, ma anche intercontinentale come Argentina e Canada. E da proposito di migranti, sabato prossimo, dopodomani, nella Sala Oro della Cittadella regionale alle 11.30, il presidente della regione Oliverio, il presidente della regione Toscana, Enrico Rossi, il sindaco ora sospeso di Riace, Mimmo Lucano, ed il parroco di Vicofaro, Don Massimo Biancalani, Don Massimo Biancalani è un parroco insieme a Don Sicurani di Roma e ad altri che si sta particolarmente impegnando sul fronte dell'accoglienza. Vicofaro si trova in provincia di Pistoia e Don Biancalani ha anche ricevuto critiche acerrime. Uno degli scontri è stato anche col ministro dell'Interno Solvini. Terranno una conferenza stampa proprio sul tema dell'accoglienza. Veniamo ai trasporti, anzi al trasporto aereo. Saranno 14, tre delle quali inedite, cioè nuove, le tratte che dalla prossima estate Ryanair, la compagnia irlandese Ryanair, effettuerà da e verso i tre aeroporti calabresi. Oggi si è tenuta una conferenza stampa della quale vedete alcune immagini alla mezzia terme e presenti fra gli altri i manager di Ryanair Davido Bryan e John Alborante e il presidente della Saga Alde Felice. Per quanto riguarda il dettaglio, dalla mezzia l'unico nuovo volo sarà quello per Malta che è previsto due volte alla settimana, mentre sono state confermate le tratte nazionali per Milano, Bergamo, Rialserio, Bologna e Pisa e quelle per Cracovia, Baden, Francoforte, Bruxelles e Londra per quanto riguarda l'estero. Per Crotone invece saranno attivati voli di collegamento, oltre a quello per Bergamo, sappiamo invece che Pisa è stato soppresso e non è più ripreso, saranno attivati una tratta nazionale, quella con Daeper, cioè Bologna, ed una tratta estera, quella per Norimberga in Germania. Questo in attesa di chiudere poi una nuova rotta internazionale, una nazionale per l'aeroporto di Reggio Calabria, di successo senza precedenti e di svolta epocale. Addirittura parla il presidente della Saga, l'Arturo De Felice. E' una svolta epocale, l'aeroporto di Reggio avrà per la prima volta una vera low cost, soprattutto potrà di nuovo recuperare utenza dal Messinese. La Mezza si potenzierà ulteriormente col volo per Malta e Crotone resterà aperto, nonostante le enormi difficoltà che la Saga l'ha incontrato, rilevando Reggio e Crotone da due fallimenti. E a proposito di aeroporti, i vigilantes aeroportuali hanno manifestato, protestando per gli stipendi arretrati, le condizioni di lavoro in genere, fanno parte dell'Istituto di Vigilanza Privata di Catanzaro. Ci sono loro colleghi, fanno anche presente, che vivono situazioni e condizioni anche peggiori, ma la situazione è difficile, si minacciano uno sciopero, e anche le dimissioni in massa sono arrivati ad annunciare, e qualcuno parla di sciopero della fama. La Saga al paga puntualmente, ma l'Istituto da cui dipendono non eroga gli stipendi con la stessa regolarità. È la situazione in cui versano i vigilantes dell'aeroporto di La Mezza Terme, dipendenti di un istituto di Catanzaro, che vantano due mensilità arretrate, una terza in maturazione, ferie non godute anche per diverse centinaia di ore, e denunciano diverse altre irregolarità nel loro rapporto occupazionale, come i massacranti turni di superlavoro cui si sono dovuti sottoporre la scorsa estate, quando sono spesso saltati anche i riposi. I lavoratori hanno manifestato all'esterno degli ingressi dell'aeroporto Lamettino, minacciando di attuare anche lo sciopero della fame se non si troverà una soluzione alla loro vertenza. Inutili finora anche i tentativi di mediazione della SACAL, che aveva proposto di vincolare il pagamento delle fatture all'istituto di vigilanza, proprio al versamento dei salari ai lavoratori. Oltretutto i manifestanti hanno fatto presente che ci sono altri dipendenti, sempre impegnati nei servizi di guardiania presso ospedali e banche su Catanzaro e Vibo Valencia, che versano in condizioni ancora più preoccupanti. Nei casi più gravi si parla di un anno di remunerazione arretrata. Quello che non va giù ai lavoratori è che mentre la società aeroportuale è puntuale con i pagamenti del servizio appaltato, la loro condizione reddituale sia di continua, incessante sofferenza. Non un caso unico, poiché il settore dei servizi attraversa difficoltà di questo genere un po' dappertutto nel paese, ma i vigilanti scalabresi si sentono, più che altrove, soli ed accerchiati, accusando anche un isolamento che si traduce in mancanza di ascolto e di considerazione a livello istituzionale. Nell'ispettorato del lavoro, nella prefettura, le varie prefetture, Vibo, Catanzaro, Crotone, ancora si sono fatti sentire, anzi, ci snobbano pure, nemmeno ci ricevono. La cosa grave è questa qua. Siamo fermi sullo stesso punto di partenza, senza che nessuno si faccia sentire. La cosa grave è questa. Le istituzioni dove sono? La domanda mia è questa. Le istituzioni dove sono? C'era da farsene una ragione, magari sollecitavano gli enti, ma dal momento in cui gli enti pagano, dolenti o nolenti, e l'azienda, questi soldi, dove vanno? L'azienda ci sta sottoponendo a uno stress psicologico, emotivo, e tante altre cose a livello familiare che ci sta proprio umiliando, ci ha tolto la dignità. Vi mostreremo adesso, Walter Rocca in regia ci mostrerà alcune foto, sono cinque in tutto. Questo è un bar di Catanzaro, questa è via Pascali, primo pomeriggio, e questa auto è letteralmente entrata con il muso in questo bar, che si trova a pochi passi dalla caserma Florestano Pepe, a due passi anche da via Buccarelli, una delle zone centrali più esclusive, in zona Giardini di San Leonardo di Catanzaro, molto vicino anche, fra l'altro, all'ospedale pugliese, a poche centinaia di metri all'ospedale pugliese. La strada è in salita, c'è una curva con uscita a destra, evidentemente il conducente ha perso il controllo dell'auto, ed è finito proprio dentro il bar. Panico e paura per quanto riguarda i proprietari del locale, per fortuna, a parte i danni che possono essere riparati, nessuno si è fatto male, oltre tutto su quella strada, spesso i pedoni percorrono quella strada sia in salita che in discesa, ma ripeto, era primo pomeriggio e questo ha fatto probabilmente in modo che non vi fosse alcuno a transitare. La Guardia di Finanza ha sequestrato due sequestri, adesso di due sequestri parliamo, uno per Ndrangheta, 1.600.000 euro di beni sequestrati dalla Guardia di Finanza di Reggio Calabria a Domenico Chilà, 77 anni, e dai parenti di Giovanni Alampi, deceduto, entrambi furono arrestati nel 2010 nell'operazione crimine, poi condannati per affiliazione alle cosche regine. Per omesso versamento dell'IVA invece, la Guardia di Finanza di Cosenza ha seguito un sequestro preventivo di beni per un milione di euro ad una società del settore alberghiero, il cui rappresentante legale è anche stato denunciato, è stata riscontrata nel mancato versamento d'IVA per 939.000 euro. Purtroppo anche oggi, e ormai dobbiamo parlare del quinto giorno trascorso senza notizie, non si è riusciti a trovare Francesco Rosarno, l'uomo di 60 anni che è andato in cerca di funghi e si è perso nei pressi del fiume Laceno in un bosco. La sua macchina è stata ritrovata, stamattina sul posto è arrivato anche il prefetto di Vibo Valencia, Giuseppe Gualtieri, è stato portato uno speciale mezzo 4x4, ma nonostante le ricerche in cui partecipano, soccorso alpino e speleologico, vigili del fuoco e anche unità cinofile, un cane molecolare di Rosarno, ancora non ci sono notizie. Il ponte Morandi di Catanzaro, sempre grande attenzione, tanto più da circa due mesi e mezzo a questa parte dopo i fatti purtroppo del ponte Morandi di Genova, ma è stato fatto notare in un convegno organizzato dal Rotary, non si può parlare di ponti gemelli, uno è un ponte strallato, quello di Genova, l'altro è un ponte ad un'arcata, certo, soluzione ardita, non innovativa, ma ardita, perché poi si tratta di uno dei ponti più lunghi d'Europa ad unica campata, lo sappiamo, ma una scelta motivata, lo sentirete il motivo nel corso del servizio, quella fatta dall'ingegnere romano, un allievo del quale a suo tempo, 1962-56 anni fa, partecipò, face parte della commissione che diede il via libera, in sostanza al ponte, dice, è una struttura assolutamente sicura e lo ribadisce anche l'ANAS. È il simbolo di Catanzaro da 56 anni e continuerà ad esserlo ancora a lungo. Il ponte Morandi, oggi viadotto Bisantis, raccorda passato, presente e futuro di più dell'ultimo mezzo secolo della città capoluogo della Calabria. Infrastruttura identitaria, certamente innovativa quando venne progettata per collegare il versante occidentale ed il centro storico, un'unica grande arcata senza piloni di sostegno centrali, per evitare che affondassero nel terreno alluvionale della vallata della Fiumarella, poggiando invece sulla solida roccia delle pareti laterali. Ed è proprio sull'evoluzione e nella gestione di ponti e viadotti che il Rotary Club di Catanzaro ha organizzato un convegno di battito al quale hanno partecipato tecnici e politici. Ma l'obiettivo lampante ed inconfessato era ovviamente quello di parlare di sicurezza, ovvero di tranquillizzare tutti coloro e sono migliaia di persone che ogni giorno lo percorrono sulla saldezza e l'affidabilità della struttura. Perché il ponte di Catanzaro è da poco più di un anno oggetto di lavori di ristrutturazione suddivisi in più lotti e soprattutto perché alla vigilia di Ferragosto è venuto giù il viadotto sul Polcevera a Genova, opera dello stesso Riccardo Morandi, ed a quel punto dubbi, paragoni, sospetti e cattivi pensieri sono diventati inevitabili. Ma il professore Mario Paolo Pietrangeli, docente dell'Università Romana La Sapienza, allievo di Morandi e componente, allora giovanissimo il gruppo di collaudatori del ponte catanzarese nel 1962, mette in luce le profonde differenze tra le due strutture e sottolinea che quella calabrese è unanimemente valutata come assolutamente robusta. Il ponte ad arco della Fiumarella è totalmente diverso dal ponte strallato di Genova per un motivo molto semplice perché il ponte ad arco riproduce in chiave moderna uno schema che ha duemila anni di esperienza, duemila anni di storia perché è dal tempo dei romani che si fanno i punti ad arco. Il ponte di Genova invece era uno schema all'epoca innovativo, nuovo, rivoluzionario, per cui mancava tutto quel background, tutte quelle conoscenze sulle criticità che si sono andate evidenziando poi negli anni. Quindi diciamo da questo punto di vista assolutamente sono due cose diverse e direi che quel ponte di Catanzaro, specie per quello che riguarda la parte principale, cioè l'arco, è una struttura assolutamente robusta come si dice adesso, mentre i primi ponti strallati fatti non solo da Morandi perché anche io ne ho fatto qualche d'uno in quella maniera, erano critici proprio perché la rottura dello strallo, cosa che è avvenuta a Genova, provocava il crollo dell'intero ponte. State tranquilli, passate tranquilli sul ponte. Come ha più volte fatto anche in questi ultimi due mesi e mezzo, pure l'ANAS per bocca del coordinatore calabrese Giuseppe Ferrara e del direttore dei lavori Silvio Baudi ha ribadito che i lavori di manutenzione sono di carattere ordinario e di natura conservativa e che tutto procede secondo le previsioni. Tra pochi giorni partiranno i lavori del secondo lotto e tra gennaio e febbraio quelli del terzo. Nel frattempo è già in fase avanzata il discorso con l'Università della Calabria per studiare interventi di adeguamento sismico. Gli interventi che ne abbiamo già programmato, messo in gara e poi realizzato in quest'anno sono appunto interventi programmati di manutenzione di un'opera molto importante che ha bisogno appunto, a causa del degrado che ha accumulato negli anni, di interventi molto importanti. Abbiamo avviato il primo lotto, il secondo lotto verrà avviato a novembre, il terzo verso gennaio-febbraio del prossimo anno. In due anni noi dovremo completare la manutenzione conservativa di tutti gli elementi strutturali del ponte Morandi. Stiamo però affrontando una nuova sfida e qualcosa in più perché con l'Università della Calabria stiamo studiando gli interventi di adeguamento sismico. Cerchiamo di avere dei fondi aggiuntivi grazie alla Regione e alla collaborazione col Comune per fare poi, a seguire degli interventi di adeguamento sismico di quest'opera così importante. Il ponte Morandi è sicuro, non desta nessun tipo di preoccupazione e anche la limitazione che abbiamo posto con i mezzi pesanti sul ponte non deve far preoccupare perché è una cautela che abbiamo adottato per non creare vibrazioni eccessive sugli interventi che stiamo facendo e quindi non creare problemi alle malte che servono per risanare il ponte. Il telegiornale di questa sera termina qui. Vi ricordo il nostro sito online per forza, tgcal24.it in primo piano sia le novità per quanto riguarda l'omicidio di Piscopio per cui è stato fermato anche il figlio maggiorenne della vittima di Mauro Ripepi e poi l'annuncio dato da Sacale e Ryanair sulle nuove tratte per Crotone e Lamezia. Per Reggio c'è attesa ma da Reggio sappiamo ci sono state nuove tratte aperte di recente a partire dalla prossima estate. Grazie per averci seguito e buona serata. Il telegiornale torna domani alle 13.50. Grazie per aver guardato il video.